la possiamo provare? anzi no, proviamo solo sul re, 4 giri di re, di mi, scusami, 4 giri di mi e poi la notte cade su di noi, ok, possiamo cantarla, cantiamo, esatto, 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 al resto, ann, 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 a n, aaaa, aaaa, aaaaa, auuuu, aaaaa, aaaaa... Ehhh, ecco lei, eccobahn, è stata a siano in diretta, oka MAC,iset, dai, Sono stupiti Sono stupiti Scusate Va bene, va bene Siamo, quando volete Scusate 1, 2, 3 Scusate Grazie per la visione Grazie per la visione